ragazzi ragazzi che sta succedendo volete fare una lotta allora vi serve un arbitro siete pronti per cominciare 5 4 3 2 1 non ti è scontrozza Sottotitolo Questo round lo vince l'Indominus Rex il secondo round è tra Tyrannosaurus Rex e Stegosaurus 5, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 6, 7, 8, 9, 10 Ragazzi Questa mossa fa male Ma molto male Vince lo Stegos August Oh yeah Solo troppo stampo Me ne vado anch'io No 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 Dalla parte di Arvivori stavolta Terzo round Tirannosaurus Rex Contro Transformers Cinque Quattro Tre Due Uno Via Un attimo E io dovrei combattere con quel T-Rex Gigante Ho perso una zampa Ma sono ancora rimontabile E dovrei combattere anche con gli occhigiani Corri 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 è il momento di svegliarsi con il t-rex davanti è il momento di svegliarsi con il t-rex davanti distacco la zampa! che? aiuto! mamma! mamma! vince il transformers si trasforma in t-rex quarto round spinosaurus contro dinosaurus chissà quale è usus cinque quattro tre due uno v i ahhh 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 t-rex 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 VINCE LO SPIROSAURUS! Un attimo! Si ha fatto perdere la coda! E anche la zanna! In questo round non sono sopravvissuti! Quinto e ultimo round Tyrannosaurus contro Ankylosaurus 5, 4, 3, 2, 1 Via! Come fa a buttarlo in fretta? Si è buttato lui? Per ora si ti do un calcione gigante Anzi! Anzi! Ecco! E' ancora un amico? Mi lascio uccidere! Addio! Yeah! Ha vinto l'Ankylosaurus! Vincitori! Venite qui! Ecco i quattro vincitori! Lo Stegosauro L'Indominus Rex Si abbassa perché è stanco! Si! L'Ankylosaurus L'Ankylosaurus E' il Transformers Ciao ciao ragazzi! Ragazzi! Spero tanto che questo video vi sia piaciuto Mettete un bel mi piace Se vi piace il video Iscrivetevi al mio canale E ciao ciao da Leonardo! Mamma come faccio ad iscrivermi al mio canale? Ok! Cliccati lì Vai! Ok! E poi sulla campanella per le notifiche Bene!